Il primo tutorial su European Coronavirus medley riguarda il suono dei synth brass ovvero la parte superiore delle delle tre parti quella più acuta quella più la melodia insomma la melodia è fatta da with or without you dei U2 e poi subito l'inno alla gioia di Beethoven sulla parte ottave synth brass 16 piedi più 8 piedi 16 più 8 è l'ottava l'arrangiamento è fatto in modo che un gruppo di almeno quattro ragazzi su due tastiere possa suonare la melodia chi all'ottava superiore chi all'ottava inferiore allora cominciamo con le prime note con la mano sinistra io ho scritte qua sopra io la faccio fare l'ottava sotto ripeto e poi c'è l'inno alla gioia ovvero con tutte e due le mani qui anziché qui qui io ho segnato soltanto la destra però è meglio fare subito si si do re re do si la so so la si la so so di nuovo due volte si si do re re do si la so so si si do re re do si la so so la si la so so poi possiamo fare anche il seguito la la si sol la si do si so la si do si la so occhio a sto passaggio perché da questo sol qui stringe la e riallarga re e poi si si quindi rifaccio da misura numero 35 34 33 la la si sol la si do si sol la si do si sol la si do si la so stringi la re re allarga si rimetti tre terzo dito ricomincia la si la so so rifaccio da misura sempre 33 la la si sol la si do si sol la si do si la so stringi allarga riallarga ripeto col terzo dito si do re re do si la sol sol la si la so so rifaccio a tempo 1 2 3 4 la la si sol la si do si sol la si do si la sol la re si si do re re do sol sol la si la sol sol e poi dovrebbe essere re do re sol ora re do re sol mi re mi re do mi re mi sol fa mi re mi re do mi re mi sol fa do si do si la do si la si do si do re mi re in equilibrio re do re pollice indice pollice sol quindi taradata poi il mi bemolle che è più o più a destra lo prendo con l'indice taradatta taradam sol fa due volte mignolo quindi sol, fa, mignolo, mignolo do re do re si do si mi re mi te il secondo dito e poi allora comincio da ancora più lentissimo che ho messo al 75% e mi sonora e mi sonora Grazie a tutti. 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 8 misure di pausa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si si do si. Anzi qua. Si si do si. Si si la la sol sol. Si si do si. Si do re mi do. Mi re mi do mi re. Mi re mi re mi re mi re mi re mi re. Mi re mi re mi re mi re mi re do si. La ottava sopra, si si la si, si si la la sol sol, si si la si, si do re mi do, mi re mi re mi re, mi re mi re mi fa mi re do si, finale. Do re mi fa 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 fa, pausa, e poi za, lungo tre, fino a che non vedi il direttore, poi stacco, e poi za. Rimetto prima, rimetto la begita normale. La ottava sopra. La ottava sopra. Col gesto del direttore, che quindi prendendo l'ultima misura, a misura 87, dovremo guardare, a misura 86, dovremo guardare il direttore che dà l'attacco a misura 87. E poi diminuendo, ricrescendo, poi stacco, e tac 89. Saranno gesti del direttore, che vedremo tutti insieme. Cioè, veramente dà, ok, io, direttore, ok.